Come vi avevo promesso vi racconto l'attrezzatura fotografica che abbiamo utilizzato durante il Mobile World Congress 2017 di Barcellona che sta giungendo al termine proprio in queste ore. In un altro video vi ho raccontato tutta la parte un pochino più informatica, quindi computer, smartphone e accessori che abbiamo usato in fiera e in questo video invece vi racconto le fotocamere, i cavalletti e gli accessori che abbiamo utilizzato qui a Barcellona. Comincio subito dalle due fotocamere che stanno girando questo video. Lì abbiamo una Canon 750D, una classica Reflex che in realtà non sarebbe nemmeno troppo pensata per i video ma in realtà se l'è cavata egregiamente per qualsiasi situazione. Ha un 18-55 montato a bordo che è l'obiettivo standard pur avendo a disposizione un 18-135 che oggettivamente è molto più versatile per appunto girare i video e che utilizzo solitamente a casa. La seconda fotocamera che sta girando questo video è una GoPro Hero 5 Black, un'action cam molto comoda perché ha una batteria a lunga durata, permette di essere molto versatile, molto piccolina e utilizzata in qualsiasi contesto e oggettivamente con il suo display touchscreen risulta essere comoda rispetto alle vecchie GoPro perché appunto riusciamo subito a controllare l'inquadratura di quello che stiamo girando. L'abbiamo utilizzata per dei B-roll, per delle riprese secondarie e quindi è un accessore, chiamiamolo così, una fotocamera che si è davvero distinta rispetto ad altri prodotti e sono molto contento di averla utilizzata. La terza fotocamera è una camera un pochino più vecchiotta, è quella che utilizza Jacopo per fare le foto, una Sony Alpha 77, è una Reflex appunto di Sony che secondo me è veramente ottima per fare le foto. Se andate su RedWall.com e leggete i nostri articoli, noterete delle foto bellissime proprio qui da Barcellona. Per quanto invece riguarda gli altri accessori, abbiamo utilizzato i nostri classici microfoni Sennheiser che sto utilizzando proprio in questo momento per registrare il video, microfoni Sennheiser che permettono di registrare senza fili in mezzo e quindi sono molto comodi e hanno davvero una grandissima portata. Li utilizziamo ovviamente da qualche anno, già probabilmente li avete visti in altri video e quindi noi continuiamo ad utilizzarli perché in fiera sono davvero molto comodi. Il secondo accessorio è stato inedito per noi, è un cosiddetto gimbal, si chiama Zhiyun Crane e permette di tenere stabilizzata la fotocamera sempre, in qualsiasi contesto ed è quella che ha permesso di portarvi sul canale in questi ultimi video delle inquadrature che ad altre fiere non siamo mai riusciti a realizzare. Possiamo veramente muoverci molto liberamente all'interno di uno stand senza ingombrare con un treppiede canonico e in delle situazioni dove magari non c'è veramente spazio per tirare fuori il cavalletto che comunque risulta essere più stabile e più comodo in altri contesti lo Zhiyun Crane ci ha davvero salvato perché permette di avere la fotocamera stabile e una grandissima libertà di movimento. Invece per quanto riguarda l'attrezzatura più canonica, quindi i cavalletti e quella roba lì devo dire che siamo stati molto fortunati perché abbiamo tantissimi prodotti molto molto validi che abbiamo utilizzato quotidianamente nel nostro lavoro in fiera e che si sono veramente rivelati molto utili. Il primo accessorio è lì, sta tenendo la fotocamera in questo momento, il Manfrotto BeFree Live ed è un cavalletto treppiede di cui trovate la recensione sul canale di Leadball Fotografia che mi ha davvero sorpreso per la sua versatilità. È leggerissimo, molto molto piccolo e permette davvero di essere contenuto all'interno di una borsa piccolissima e portato dietro con sé senza sentirne il peso. Rispetto ad altri treppiedi che ho usato in passato è veramente tutta un'altra storia e soprattutto ha la testa fluida che permette di fare inquadrature davvero molto morbide, davvero molto fluide senza alcun tipo di problema. Il secondo oggetto che abbiamo utilizzato è un monopiede, sempre Manfrotto. Il monopiede è un cavalletto diciamo così senza appunto due gambe quindi permette di essere leggermente meno ingombranti rispetto allo spazio che appunto occupa un treppiede e soprattutto di avere però ancora una versatilità di movimento grazie ancora una volta alla testa fluida. Il monopiede risulta essere davvero comodo in quelle situazioni in cui non ci si deve spostare molto ma bisogna rimanere stabili perché lo si pianta diciamo a terra e permette di avere una grandissima libertà di movimento. Il terzo accessorio che abbiamo utilizzato è uno che ci accompagna ormai da qualche tempo è uno zaino Manfrotto estremamente comodo perché pensato proprio per la fotografia e dà tantissimo spazio all'interno uno lo potrebbe usare tranquillamente come bagaglia a mano e metterci anche vestiti ed altra roba ma non è questo il caso. Io inserisco tutto compreso il gimbal senza alcun tipo di problema e ancora ci sarebbe spazio però poi le mie spalle chiederebbero pietà. E il quarto e infine ultimo accessorio sempre Manfrotto è una piccola lucina che si chiama Lumimuse permette di illuminare il soggetto quindi nel caso dei video me o il telefono o il dispositivo che vi sto facendo vedere in delle situazioni come gli stand poco illuminati ce ne sono tantissimo davvero può sembrare sorprendente che ci siano tanti stand con poca luce ma un faretto risulta essere fondamentale in quelle situazioni dove non riusciamo ad illuminare bene e vi assicuro veramente durante questi giorni tantissimi stand hanno avuto una illuminazione poco poco ottimale. Insomma questa era la nostra attrezzatura fotografica qui al Mobile World Congress 2017 di Barcellona continuate a seguirci sul canale iscrivendovi al canale appunto se già non l'avete fatto mettete un like al video se vi è piaciuto questo contenuto e seguiteci sui social trovate i link in descrizione qua sotto un saluto al prossimo video per il Dual.com Andrea Ricci